Quella che ho appena messo nel bicchiere è una polvere magica che ringiovanisce la pelle. No, non ho iniziato a credere a Vannamarchi. D'accordo! E quello che ho appena messo nel bicchiere non è il sale del mago do nascimento. Oh, vere, vamo a fare un vere. Come al solito mi sono documentato su PubMed ed effettivamente sono moltissimi gli studi che dimostrano che integrare il collagene permetta di ridurre le rughe, migliorare l'elasticità e l'idratazione della pelle. Gli studi ve li lascio in descrizione, ma sarà vero? Proverò ad assumere il collagene per tre mesi per vedere se davvero la pelle ringiovanisce. Questa è la situazione iniziale della mia pelle, sono venuto in ufficio così avrò le stesse condizioni di luce quando ripeterò l'esperimento. Prima di vedere quale collagene prenderò e quanto ne prenderò, una spiegazione doverosa. Il collagene che andremo ad ingerire non è una sostanza miracolosa che magicamente va a depositarsi nella pelle e magicamente cancella le rughe. Il collagene è una proteina e come tutte le proteine è formata da aminoacidi. Facciamo finta che questa sia una proteina di collagene quando la ingeriamo in nostro stomaco, la spezzetta in tanti piccoli aminoacidi. Questa cosa chi produce gli integratori di collagene la conosce molto bene. Infatti sulle confezioni troverete sempre scritto collagene idrolizzato oppure peptidi di collagene. Cosa vuol dire? Semplicemente che il collagene è stato spezzettato in aminoacidi. Il nostro corpo è in grado di sintetizzare il collagene da solo. Ingerendo un integratore di collagene non facciamo nient'altro che dargli i mattoncini che servono a costruire il collagene. Lo ripeto, deve essere chiarissimo. Ingerendo il collagene non stiamo assumendo una sostanza che va a finire direttamente nella nostra pelle. Stiamo solamente dando al nostro fisico gli ingredienti per costruirlo. Per questo esperimento io utilizzerò il collagene vegano di Bulk. Che al suo interno ha tutti gli aminoacidi che compongono il collagene umano. Se anche voi voleste rifare il mio esperimento e lo voleste utilizzare vi lascio il link in descrizione. Se invece ne vorrete utilizzare un altro mi raccomando fate attenzione che assieme al collagene ci sia anche la vitamina C. Come nel caso appunto di questo di Bulk. Questo perché, come spiegato in questo libro proprio dedicato al collagene, la vitamina C è essenziale affinché il nostro corpo produca il collagene. Tra l'altro, grazie al fatto che collaboro con Bulk, sono riuscito a mettermi in contatto con il creatore di questo collagene. Il quale ha condiviso con me tutti gli studi fatti sul prodotto che ne provano l'efficacia. Se invece non siete vegani e volete utilizzare il collagene più tradizionale, questo di Bulk è addizionato con la vitamina C. Vi lascio il link in descrizione. Tra l'altro, il collagene è quello tradizionale di Bulk è quello che usa la Emi. Lei usa il sapore di arancia, buonissimo. Non lo ammetterà mai, ma se non ha nemmeno una smagliatura dopo la gravidanza, è grazie al collagene che io ti ho obbligato a prendere. Integrare il collagene è semplicissimo. Io ne prendo tre misurini al giorno, mischiati con acqua ovviamente. Lo prendo la mattina a colazione quando non faccio il digiuno intermittente, mentre lo prendo a pranzo oppure alla sera quando faccio il digiuno intermittente. Oltre al collagene aggiungo anche tre misurini di glicina. Anche questa la prendo sul sito di Bulk, vi lascio il link in descrizione. Uno degli aminoacidi che forma il collagene, importantissimo affinché il collagene possa effettivamente formarsi. Tra l'altro, sempre nel libro viene spiegato come la glicina sia essenziale per la formazione del più potente antiossidante che abbiamo nel corpo, ovvero il glutatione. Una sostanza proprio attiva nella riparazione dei tessuti. La glicina è un aminoacido incredibile che tra le varie cose migliora il sonno e aiuta a diminuire i livelli di zucchero nel sangue. Andrebbe assunta a prescindere del collagene. A questo punto una domanda potrebbe sorgere spontanea. Ma se è il nostro corpo che produce il collagene, non possiamo ottenere tutti gli aminoacidi che servono dalla dieta, da quello che mangiamo? Teoricamente sì, il problema è che nel tempo la nostra dieta è cambiata molto a discapito del collagene appunto. In passato era molto più facile assumere collagene attraverso la dieta perché eravamo molto meno raffinati rispetto ad oggi. Per esempio i nostri nonni mangiavano tutto di un animale. Dagli organi alla pelle fino alle cartilagini. Cosa che gli permetteva di ingerire grandi quantità di collagene. Mi ricordo mio nonno che si mangiava i gamberi con i gusci e mio padre che si mangiava la cotenna, la pelle del maiale. Dio mio che schifo. Che dire, mio nonno è morto senza avere una ruga in faccia. Lui continuava a ripetere che era a merito del sapone di Marsiglia con cui si lavava la faccia tutti i giorni. Ma adesso ho capito che era a merito del collagene che lui ingeriva mangiandosi praticamente tutto quello che gli passava davanti. Se per esempio bollite della carne e poi la lasciate nel frigo, si formerà uno strato di gelatina. Ecco, quello è collagene. Se vi organizzate e mangiate regolarmente quella gelatina potete fare a meno degli integratori. Io preferisco comprarlo sul sito di Bulk. Bene, sono passati tre mesi. Torniamo in ufficio per vedere se è cambiato qualcosa nella pelle del viso. Nella foto di destra, quella scattata dopo tre mesi di integrazione di collagene, le rughe soprattutto sulla fronte sono molto meno marcate e anche la pelle sotto gli occhi sembra molto più tonica e tirata. I risultati sono visibili, è vero, ma la differenza vera si ha nel lungo periodo. Integrare regolarmente il collagene e la glicina è un trucco anti-aging davvero potente che farà dire ai vostri amici Ehi, ma che t'è successo? Sembri ringiovanito. Per tutti quelli che stanno ascoltando e magari ancora non hanno rughe, quello è il momento migliore per iniziare ad integrare il collagene perché prevenire la formazione delle rughe è molto meglio che tentare di eliminarle una volta che sono già apparse sul nostro viso. Assumere il collagene non è l'unico metodo per ringiovanire la pelle o evitare che invecchi. Andatevi a recuperare sia il video che ho fatto sull'acido ialuronico sia quello che ho fatto sulla skin care. Vi lascio i link in descrizione. Sempre in descrizione trovate i link per acquistare il collagene di Bulk, quello che ho utilizzato io per questo esperimento. Se proverete ad assumerlo, poi tornate qui nei commenti e fatemi sapere se i vostri amici vi hanno effettivamente detto che siete ringiovaniti. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi voglio bene.